Meglio la cucina separata oppure a vista in un open space? In questo video, oltre a scoprire pro e contro di entrambe le soluzioni, vi darò anche qualche consiglio per aiutarvi a scegliere quella adatta a voi. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo! Per aiutarvi a decidere, partiamo da sei fattori. Sei fattori che rappresentano delle caratteristiche, delle priorità, ma anche dei problemi, che interessano a chi deve scegliere tra la cucina separata oppure a vista. Il primo fattore è il contenimento. Nelle zone giorno abbiamo tutti bisogno di qualche posto dove riporre le nostre cose, quindi dello spazio contenitivo da poter sfruttare. Secondo voi c'è più spazio contenitivo nella cucina separata o in quella open space? Ovviamente dipende dal caso specifico, ma in linea generale possiamo dire che le due soluzioni se la giocano quasi alla pari. Sicuramente la cucina separata offre almeno una parete in più da poter allestire coi pensili o per accostare una parte del mobile cucina, come ad esempio delle colonne piuttosto che il frigorifero, e si può usare anche per appoggiare un tavolo, anche se in questo caso non parliamo di contenimento. Inoltre, in base alle situazioni, anche il lato della parete in zona giorno è utilizzabile per il contenimento. Oltre ad accostarvi dei mobili da terra come librerie, credenze e madie, possiamo usarla per creare la parete attrezzata per la tv, giusto per fare un esempio che interessa molti, e possiamo accostarvi anche un divano, delle poltrone o una scrivania. Quindi quando serve spazio di contenimento conviene sempre tenere la cucina separata che ci permette di sfruttare almeno una parete in più, giusto? In realtà non è sempre così, perché se il vostro open space ha spazio e sufficienza potete inserire una cucina con penisola o isola. Anche molti mobili di isole e penisole offrono spazio di contenimento dove riporre di tutto. All'interno di questi mobili potete mettere stoviglie, accessori vari della cucina, piccoli elettrodomestici, tovaglie, canovacci, posate, cestini della spazzatura, di solito avete il mobile colleante, i cassetti, oppure i cestoni estraibili. Senza contare che ovviamente si sfrutta anche la superficie del piano isola o penisola. Il secondo fattore su cui riflettere è la questione degli odori del cibo, un problema molto discusso sul quale si trovano sempre delle opinioni contrastanti. L'unico dato di fatto indiscutibile è che negli open space gli odori di cibo non trovano ostacoli alla loro diffusione nell'ambiente. In certi casi le cappe di ispirazione non possono fare molto riguardo, compresi modelli potenti e ben dimensionati. Detto questo però è scorretto affermare che con la cucina separata non sentirete più odori di cibo in soggiorno o negli ambienti limitrofi. La verità è che il problema dipende da molti fattori. Dipende da cosa cucinate, dalla distribuzione degli ambienti e delle finestre, perché magari c'è la possibilità di creare correnti d'aria per far uscire più rapidamente gli odori, e dipende anche dal tipo di cappa e da come viene usata. Ci sono cibi come aglio, cipolla, cavolo e pesce fritto che producono odori molto forti e difficili da contenere, anche quando la cucina è separata, perché a volte basta aprire la porta per poco tempo per far passare l'odore. Per scongiurare la diffusione dell'odore, o quantomeno per limitarla, dovrete sempre accendere l'aspirazione e, se necessario, ariaggiare anche mentre cucinate, oltre a valutare l'uso di un profumatore per ambienti. Tutto questo a prescindere dalla soluzione che sceglierete. Il terzo fattore è la questione privacy. La soluzione che offre maggiore privacy, ma anche silenzio, ordine visivo e in generale tranquillità, è la cucina separata. La parete o le pareti divisorie creano uno schermo che torna utile in varie situazioni. Come prima cosa potete spadellare senza distrarre chi si trova in soggiorno a studiare, leggere un libro oppure lavorare. Con la cucina separata evitate anche di disturbare chi guarda la tv, chi si riposa, chi ha il telefono o chi è in soggiorno con altre persone. Allo stesso tempo anche voi non sarete disturbati mentre vi trovate in cucina. E non dimentichiamo che i muri hanno il grande vantaggio di nascondere il disordine quotidiano creato durante la preparazione dei cibi o in seguito una cena con degli ospiti. Quindi dal punto di vista dell'intimità la cucina separata è la soluzione migliore. Il quarto fattore è la condivisione, ovvero il contrario del punto precedente. Se volete condividere le attività di soggiorno e cucina, la scelta giusta è ovviamente l'open space, perché non c'è nessun filtro tra le due zone. Grazie all'open space potete ad esempio cucinare e contemporaneamente controllare i vostri figli che giocano o studiano nel soggiorno. Se poi vi piace organizzare delle cene con amici e parenti, l'open space vi permette di preparare tutto quanto nella vostra zona cucina ma senza isolarvi in una stanza chiusa, così potete preparare e allo stesso tempo intrattenere gli ospiti. Trattandosi di un unico ambiente è più facile condividere le varie attività con il resto della famiglia, senza spostarsi fisicamente da un ambiente all'altro. Il quinto fattore è la luce naturale, quindi la luminosità portata dai raggi del sole. Per massimizzare la diffusione della luce naturale bisogna togliere gli ostacoli, quindi va da sé che senza le pareti alla porta la luce può fluire liberamente dentro tutto l'ambiente. Bisogna comunque valutare la distribuzione degli ambienti e delle finestre, oltre all'esposizione, perché ci sono certe rare situazioni, sottolineo rare situazioni, dove l'abbattimento delle pareti non porta grandi migliorie in termini di luminosità. Il sesto ed ultimo fattore è l'impatto visivo. Con l'impatto visivo intendo l'effetto estetico generato dagli elementi dell'arredo all'interno dello spazio. Potete creare un magnifico impatto visivo e scenico sia con la cucina separata che con quella vista, anche se secondo me alcuni open space hanno una marcia in più sotto questo aspetto. Mi riferisco in particolare a quegli open space abbastanza spaziosi da poter ospitare una cucina isola o penisola, dove tutti gli elementi delle due zone, nell'insieme, creano un'atmosfera accattivante e coerente. Secondo la mia esperienza, gli open space ben dimensionati e ben arredati riescono a colpire in modo positivo con maggior facilità rispetto alle cucine separate. Ricapitolando, abbiamo detto che a livello di contenimento le due soluzioni se la giocano. Bisogna comunque vedere il caso specifico e lo spazio a disposizione per inserire degli elementi contenitivi. Per quanto riguarda gli odori, la cucina separata ha il vantaggio di contenerli un po' di più rispetto all'open space e anche sulla questione privacy bisogna dare un punto alla cucina indipendente. La condivisione e la luce naturale sono invece favoriti quando si sceglie un open space e per finire c'è l'impatto visivo, che si può creare con entrambe le opzioni, anche se come vi dicevo, secondo me è più semplice nel caso dell'open space. Ok, ma in fin dei conti, quale soluzione dovreste scegliere? La cucina separata o l'open space? Partiamo da questo dato. Tempo fa ho fatto un sondaggio sul canale dove vi ho chiesto cosa preferivate tra cucina vista oppure separata. Su circa 900 votanti, il 72% ha scelto la soluzione soggiorno cucina open space. Questo risultato schiacciante ci dice che gli open space sono apprezzati e fanno tendenza, soprattutto quelli con la isola o la penisola, ma ovviamente io vi sconsiglio di scegliere in base alle tendenze. scegliete in base alle vostre abitudini, quindi a come vivete a queste zone della casa, e oltre alle abitudini riflettete sulle vostre priorità. In quei sei fattori che vi ho mostrato, c'è un'esigenza che per voi è molto importante, magari più importante di altre? Nel mio caso, ad esempio, la priorità è la tranquillità, la privacy, quindi sicuramente scelgo la cucina separata. Ho vissuto per anni in un appartamento col soggiorno e angolo cottura, ma per quelle che sono le mie esigenze preferisco la cucina separata. Per separare il soggiorno e la cucina ci sono comunque delle soluzioni meno rigide rispetto alle pareti. Una di queste soluzioni è la vetrata, quindi dei pannelli di vetro montati su telai metallici che si adattano ad aperture di qualsiasi dimensione e che forse rappresentano la soluzione migliore per creare un leggero filtro tra i due ambienti, anziché una separazione netta. Se poi volete scoprire quali sono gli altri sistemi per dividere gli ambienti senza usare le pareti, date un'occhiata al video che trovate nella descrizione. Se avete delle domande su quello che ci siamo detti, scrivete un commento. Se il video vi è stato di aiuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale attivando le notifiche. Ci vediamo nella prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie!